buongiorno siamo arrivati all'undicesima puntata di questo ciclo didattico su economia banche finanza e pochi giorni fa ho appostato video del 2015 mio in cui ero in rai presso una nota trasmissione e denunciavo nel 2015 l'oligopolio delle multinazionali sulle intere filiere di un determinato settore grandi complimenti dopo quella trasmissione ma poi la rai da allora non mi ha più chiamato a parlare praticamente su nulla men che meno sull'energia ma oggi voglio darvi ricordarvi quella che è la situazione degli oligopoli e quindi prendo questa volta come punto di riferimento direttamente una mia pagina relativa e quindi non dovete preoccuparvi dei link che vi mostrerò perché sono tutti indicati appunto in questa pagina e in questa pagina trovate appunto un riassunto della situazione mondiale a livello appunto di oligopoli quindi pochissime aziende che controllano intere filiere ora innanzitutto vi faccio vedere quella che è una delle primi fonti che ho usato ma ripeto tutti i link li trovate direttamente nella pagina quindi non dovete preoccuparvi questo è il centro nuovo modello di sviluppo che negli anni ha rilasciato tutta una serie di rapporti diciamo molto ben fatti e diciamo anche molto considerati negli ambienti del terzo settore e che cosa dicono in cosa dice in sintesi questi questi rapporti sulla situazione mondiale beh facciamo finta che gli stati consideriamo delle aziende consideriamo che gli stati le nazioni siano delle aziende ora se noi dovessimo fare una classifica delle prime cento aziende al mondo cento economia al mondo prendendo appunto anche le nazioni considerando il loro fatturato scopriremo che sulle prime cento aziende in termini quantitativi di quanto di quanto profitto fanno le prime settanta sono multinazionali le prime cento economie mondiali considerando aziende private e stati nazioni ecco le prime settanta su cento sono multinazionali multinazionali che controllano l'ottanta per cento del commercio internazionale producono il trenta per cento del prodotto interno londo lordo mondiale ora oltre a questo c'è stato sempre già negli anni passati una ricerca del Politecnico di Zurigo e vi faccio vedere anche in questo caso la la fonte stiamo parlando ancora del 2011 le cose vedremo che poi sono peggiorate ancora comunque già nel 2011 questo il Politecnico di Zurigo e questo è uno sito svizzero che ne parla appunto diceva l'economia globale è sostanzialmente controllata da 147 multinazionali ma attenzione i tre quarti di questi 147 multinazionali i tre quarti sono istituti finanziari quindi quello che vi dicevo nelle puntate precedenti che banche fondi di investimento che sono naturalmente estremamente trecciati con proprietari gli uni con gli altri e controllano il pianeta economicamente e quindi anche politicamente è stato diciamo tracciato da questi ricercatori del Politecnico di Zurigo che hanno preso gli intrecci azionari le compartecipazioni e appunto hanno scoperto che c'è questo super oligopolio in cui la parte assolutamente delle uni la fanno gli istituti finanziari ed è per quello che io al termine di ogni puntata vi esorto sempre a valutare l'opportunità di verificare come la vostra banca utilizza i vostri soldi vi dico già io che se sono le grandi banche li utilizzano male nel senso che comunque finanziano petrolio finanziano armi c'è riciclaggio di denaro sporco più o meno inconsapevolmente c'è sicuramente un enorme fetta del loro business la maggioranza del loro le loro attività ormai è sulle speculazioni perché si può guadagnare molto di più e per cui per cui ogni volta vi esorto a passare alla finanza etica non dovete essere esperti basta solo che diventate che diventiate clienti esattamente come quando andate al mercato e comprate la frutta e la verdura che potete spostarvi da una bancarella all'altra ecco anziché da una bancarella all'altra spostatevi da una banca all'altra ora continuiamo con la situazione mondiale vi ho fatto una puntata specifica sulla gravissima crisi mondiale 2007 2008 con che ha avuto ricadute appunto globali pazzesche da cui ci dobbiamo ancora riprendere del tutto e attenzione gli indici azionari non hanno mai ripreso quei quei valori siamo ancora ancora in crisi diciamo da 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 2007 2008 ecco da quella grossissima crisi le grandi multinazionali si sono rafforzate sono sempre di meno guadagnano sempre di più e esplicano la loro influenza politica in tanti sistemi il più conosciuto dei quali è quello dei lobbisti che ho sempre detto non è una parolaccia il lobbismo non è assolutamente di per sé deprecabile è deprecabile il politico che si fa corrompere o il politico che si fa intortare si fa intortare dal lobbista non è che il lobbista sia sempre negativo ci mancherebbe ci mancherebbe altro è che dalla parte finanziaria ci sono pressioni estremamente rilevanti per mantenere lo status quo così com'è e questo per esempio è ribadito non molto spesso ma ogni tanto fuori la notizia questo è il manifesto quindi io vi faccio vedere giornali diciamo così tra virgolette importanti per far capire ogni tanto viene fuori la notizia che comunque ogni tanto un po di scandalo fa sempre bene ripeto non è uno scandalo che ci sia l'attività di lobbismo lo scandalo è quando c'è troppa a condiscendenza per essere buoni o meglio lo scandalo è quando il politico ripeto si fa corrompere si fa corrompere oppure si fa intortare appunto dai lobbisti ecco vedete lobbisti che sono 40.000 a bruxelles lobbistiche a bruxelles sono 40.000 e io ricordo ancora una volta che ogni nazione deve deve obbligatoriamente rispettare regolamenti e direttive europee che sono appunto le leggi chiamiamole così europee e quindi la conseguenza è che la stragrande maggioranza di tutto ciò che si fa a roma che noi consideriamo importante è già stata decisa a bruxelles è già in tutto in parte ma le parti essenziali essenziali cioè i principi guida principi cardine la direzione quindi io continuo a ripetere dovreste guardare dei tre giornali che parlano di bruxelles dovreste leggere dei giornali che parlano appunto del parlamento europeo dell'unione europea perché è lì che si decide è lì che si decide e i lobbisti a bruxelles sono 40.000 mi verrebbe da dire la classica battuta romana ma penso possiate immaginare in una delle precedenti puntate anzi finiamo il discorso con la con ricordare il deprecabile fenomeno delle porte girevoli e anche in questo caso ho messo uno dei tanti articoli che ne parlano in particolare questa associazione che si occupa proprio di mettere nero su bianco su un registro visualizzabile a tutti loro sono privati ma fanno questo registro visualizzabile a tutti in cui cos'è che registrano registrano appunto il fenomeno delle porte girevoli che come con un minimo di fantasia si può immaginare è quando una persona che ha avuto incarichi pubblici pubblici passa dall'altra parte della barricata quindi che ne so io legiferavo sui rifiuti faccio per dire quindi ho fatto leggi sui rifiuti oppure ero l'ente di controllo oppure ero l'ente pubblico o semi pubblico di controllo e poi a un certo punto passo divento dipendente o consulente dell'azienda che fino a prima controllavo o su cui legiferavo quindi dal pubblico passo al privato ma in nettissimo conflitto di interesse perché fino a prima ero chi legiferava o chi controllava e poi divento invece chi opera in quel mercato o viceversa chiaramente o viceversa quindi persone che per anni hanno fatto mestieri su un certo settore che poi entrano in politica e vanno a legiferare o ripeto a controllare su quel settore e questo è il discorso delle porte direvoli. In una delle precedenti puntate vi ho già parlato dell'illusione fiscale dell'evasione fiscale e qui c'è ancora una volta la conferma che moltissime multinazionali fanno accordi fiscali più o meno segreti con gli stati per avere dei trattamenti fiscali privilegiati quindi voi artigiani, voi agricoltori, voi imprenditori ma voi anche dipendenti qui il prelievo è sulla busta paga quindi non potete assolutamente scappare sappiate che mentre voi pagate tutto quello che c'è da pagare, giustamente, di tasse c'è chi non lo fa addirittura legalmente nel senso che ha stretto un accordo con il governo e legalmente può pagare di meno. Dalle mie parti si dice paga mona e tasi. Il dialetto veneto significa paga stupido e stai zitto e taci, tasi. Anche queste sono cose che si sanno ma è importante ribadire che ci sono con la nostra benedizione governi che appunto permettono a determinate multinazionali di pagare di meno pur di venire a lavorare in Italia. Ora per carità il discorso è delicato perché certo noi abbiamo bisogno di posti di lavoro, certo abbiamo bisogno che le aziende vengano a investire da noi ma non sarebbe meglio farle venire perché c'è un ambiente consono allo sviluppo delle fab dell'industria quindi infrastrutture che funzionano, burocrazia che funziona, rispetto alle leggi, rispetto insomma un ambiente generale e fra l'altro facendo pagare tutti si potrebbe abbassare per tutti il livello di tassazione. È il solito discorso, se tutti pagassero le tasse si potrebbe avere un livello di tassazione decisamente più basso. Quindi la lotta all'evasione fiscale e all'elusione fiscale è una priorità assoluta. In ogni caso se abbiamo un sistema paese che funziona le aziende vengono a investire perché perlomeno riconoscono che i laureati che escono dalle nostre università sono molto, molto, molto preparati. Ora alcuni oligopoli diciamo li conoscete già, alcuni ve li sto facendo conoscere io che sono quelli finanziari. Ricordiamo abbiamo al mondo cinque società di intermediazione immobiliare e cinque banche che hanno il 90% dei derivati e vi ho parlato dei derivati nella puntata precedente e ovviamente invito tutti chiaramente chi non le ha viste a vedere le puntate precedenti. Del petrolio è una delle oligopoli che si conoscono diciamo un po' di più. Si conosce meno il fatto che sul mercato dell'agrichimica nel 1980 avevamo venti multinazionali, nel 2002 erano sei, oggi ne abbiamo quattro. Quattro aziende al mondo gestiscono la maggioranza del mercato dei pesticidi e dei fertilizzanti chimici agricoli mondiali. Quattro aziende. Stesso numero sul mercato cerealicolo. Quattro corporation che hanno, quattro aziende, quattro multinazionali che hanno un potere enorme su quello che è l'alimento, uno degli elementi basi mondiali, cioè i cereali, riso, grano, flumento, orzo. 13 aziende controllano il mercato dei sementi, come vedete tutte le righe blu chiaramente sono link che vi portano agli articoli fonte di approfondimento e questo è un altro oligopolio di cui si parla poco e si conosce ancora meno e cioè il 3 per cento delle aziende agricole europee detiene il 52 per cento dei terreni agricoli e questo fenomeno sta proseguendo e qui vi mostro questi belli articoli di una di quelle riviste di cui vi consiglio di diventare comproprietari perché qui abbonandosi si diventa comproprietari si può votare anche nelle assemblee appunto dei soci e questo appunto è l'ennesimo articolo negli anni ne hanno fatti tanti in cui ancora una volta si ribadisce che il cibo è sempre di più nelle mani di poche e grandi imprese multinazionali quindi quando io da anni io tante persone affermano che ogni volta che facciamo la spesa stiamo votando è così ogni volta che facciamo la spesa ora io capisco che moltissimi italiani guardano le etichette partendo dall'angolo in basso a destra dove c'è il prezzo di solito il prezzo al chilo tra l'altro quello che conta chiaramente è il prezzo al chilo io capisco che moltissimi devono fare il conto col portafoglio io mi rivolgo a tutti quelli che hanno possibilità di scelta attenzione perché ogni volta che si compra qualsiasi cosa che sia un bene o un servizio in pratica stiamo votando andiamo avanti con altre con altre con altre indicazioni sono perso un attimo qui allora ecco questo è uno dei grandi dei grandi temi di cui ugualmente ci si dovrebbe occupare di più soprattutto il mondo agricolo soprattutto il mondo agricolo perché nella grande distribuzione ci sono dieci oligopoli no scusate sono andato troppo avanti era qui sotto eccolo qua dopo dopo torno su ecco qua ero già andato più avanti perché mi avevo già aperto questo 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 link che vi faccio vedere ehm mondo agricolo perché appunto eh il sessanta per cento del valore dei prodotti agricoli va alla GDO quindi il non solo la politica favorisce i grandi produttori e le catene distributive e eh il sistema dei sussidi dell'Unione Europea che è nato con nobili intenti è diventato qualcosa che spesso produce delle gravi contraddizioni tipo pagare per non coltivare o addirittura pagare per distruggere dei prodotti capite che non credo sia il miglior sistema per utilizzare il denaro quello di pagare qualcuno perché non faccia nulla o addirittura pagare perché distrugga determinate produzioni in ogni caso eh il lato oggettivo è che il grosso del valore dei prodotti agricoli va alla grande distribuzione organizzata il sessanta per cento il ventitré per cento all'industria della trasformazione mentre solo il diciassette per cento resta al produttore questo è un enorme un enorme problema non solo italiano generale dettato appunto da un sempre maggiore potere degli oligopoli che sono sempre meno come numero ma sempre più grandi hanno un potere sempre più grande e la politica non riesce non riesce assolutamente a venire fuori da questo circolo vizioso torniamo su perché volevo completare un attimo abbiamo detto appunto agrichimica oggi siamo a quattro cereali siamo a quattro tredici aziende controllano il mercato delle sementi terreni agricoli 3 per cento detiene 52 per cento di terreni agricoli trasporto merci siamo un pianeta in cui ormai le merci viaggiano in quantità incomparabili rispetto a un secolo fa secoli fa abbiamo quantità di merci da materie prime ferro rame alluminio carbone si muove in quantità immense e fra l'altro il 90 per cento della merce si muove via mare è scritto qui sotto e in questo caso ci sono cinque compagnie di navigazione e cinque società che operano i porti che detengono il 50 per cento della capacità di trasporto e gestione quindi ancora una volta un fortissimo oligopolio su un servizio che è essenziale e ce ne siamo accorti dolorosamente forse per la prima volta durante il covid in cui molto molto settore della logistica dei trasporti era anch'esso diciamo sotto effetto chiaramente del lockdown e degli effetti del covid e i costi costi del trasporto delle merci sono schizzati verso l'alto quindi il trasporto in un mondo globalizzato come il nostro in cui siamo abituati ad avere le banane tutto l'anno avere tutte qualsiasi merci tutto l'anno ma anche prodotti diciamo tra virgolette indispensabili domestici automobili mobili vestiti quindi insomma la quantità di merci che gira è impressionante e continua a salire capite con oligopolio così ristretto certamente non fa il bene diciamo così di una sana concorrenza che stimoli appunto dei prezzi giusti concludiamo con il farmaci otto multinazionali controllano oltre il 50 per cento del mercato di farmaci e finiamo con anzi no non finiamo siamo quasi alla fine siamo quasi alla fine delle vacanze molti di voi saranno andati in giro per l'italia in giro per il mondo e anche in questo caso ricordiamoci ricordiamoci prendiamo coscienza che ci sono sette multinazionali che hanno la maggioranza delle di ciò che è turismo quindi anche in questo caso enormi gruppi che spesso non trattano bene nei dipendenti nell'ambiente ma hanno hanno il guadagno come loro mantra ovviamente per carità il guadagno è sacro santo però quando ho fatto nel rispetto delle leggi dell'ambiente e dei dipendenti di tutto rispetto delle leggi buona sostanza e quindi ancora una volta mi invito a riflettere sul fatto che tutte queste multinazionali che tutti questi oligopoli che brevemente vi ho raccontato sono detenuti in grande maggioranza dai fondi di investimento di cui ho fatto la puntata due puntate tre puntate fa e molto probabilmente voi senza saperlo se avete risparmi da parte se avete risparmi in banca in fondi di investimento con il vostro denaro rafforzate questi oligopoli col vostro denaro rafforzate questi oligopoli quindi ancora una volta vi invito a usare la finanza etica che non investe in questi oligopoli che non investe in questi oligopoli punto esclamativo punto esclamativo i bilanci sono pubblici e tutti i finanziamenti alle persone giuridiche sono pubblici sul sito non occorre che siate clienti non occorre che siate soci potete vedere tutti i prestiti fatti alle persone giuridiche alle persone fisiche no c'è un discorso di privacy posso mettere sul sito che ho prestato 100 mila euro alla famiglia rossi c'è un discorso di privacy ma ci mancherebbe ma alle aziende alle persone giuridiche alle aziende alle fabbriche alle imprese si e provate a chiedere alla alle altre banche se mai e poi mai renderebbero pubblici i loro finanziamenti appunto ad imprese di tutti i tipi ultimo oligopolio forse importante forse più subdolo è quello dell'informazione è quello dell'informazione ora a me viene in mente che questo mio video lo vedranno relativamente poche persone sta di fatto che l'informazione è tutto è tutto noi facciamo tutto ciò che facciamo nella vita dipende dalle informazioni che abbiamo avuto in precedenza fino a sei anni crediamo che babbo natale esista perché fino a sei anni tutti ci dicono che esiste i genitori gli zii i nonni i parenti le maestre tutti tutti ci dicono che babbo natale esiste lo dicono in maniera convinta e il giorno di natale troviamo il regalo e ci sono i cartoni animati ci sono le storielle ci sono le pubblicità con tutti questi vecchietti ben messi fisicamente con la barba bianca fino a sei anni noi siamo convinti che babbo natale esiste e ci comportiamo di conseguenza e quindi scriviamo la letterina oppure diciamo al papà e alla mamma per favore dite a babbo natale che l'anno prossimo mi porti questo quell'altro noi facciamo esattamente quello che possiamo fare in base alle informazioni che abbiamo ricevuto bene tutto questo parigirico per dire che le quattro maggiori agenzie di stampa del mondo gestiscono da soli l'ottanta per cento del flusso di notizie e la maggior parte sono statunitensi ancora una volta gli stati uniti la fanno da padrone esattamente come vi avevo indicato anche appunto per i fondi di investimento con i quali con i quali con il denaro degli europei si finanzia il debito pubblico statunitense e le aziende statunitensi con il denaro anche degli europei quindi non solo vi ho indicato questo questa rivista ma in un'altra pagina del mio sito trovate indicazioni su altri mass media che ritengo oggettivi e indipendenti oggettivi indipendenti cioè che non accettano inserzioni pubblicitarie delle multinazionali e non accettano neanche finanziamenti sono di comproprietà di soci importanti influenti ma la proprietà è diffusa tra i cittadini e questa è l'unica alternativa o diventiamo noi stessi i giornalisti nel senso che insomma finanziamo giornali indipendenti oggettivi finanziariamente indipendenti oppure ci becchiamo quello che passa il convento e il convento magari fosse il convento sono queste grandissime multinazionali di proprietà di pochi grandissimi soggetti finanziari che usano i vostri soldi perché ribadiamo che i soldi che girano sono quelli che voi portate in banca con i vostri stipendi con i vostri guadagni da imprese da professionisti eccetera eccetera bene credo sì qui sotto trovate altre 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 notizie varie ma mi permetto di segnalare anche queste inchieste che ha fatto l'associazione di consumatori di consumatori altro consumo su banche su generi alimentari su elettrodomestici tutta una serie di prodotti e servizi e ci sono tante notizie diciamo da mettersi a piangere ma almeno ne venite a conoscenza e io qui le metto a disposizione sono vecchiette ma sono sempre valide sono in gran parte ancora valide per esempio quella delle sostanze tossiche nella filiera del tessile ricordiamo che la filiera del tessile è la seconda filiera maggiormente inquinante al mondo e inquina in maniera pazzesca e c'è tutto il problema del riciclaggio perché i tessuti sintetici spesso sono misti sono misti con quelli naturali o sono misti tra di loro ed è molto difficile riciclarli in generale è molto difficile riciclare le plastiche le plastiche perché il riciclo che si fa attualmente è tra virgolette un riciclo perché ci si limita a a suddividere le categorie a romperle farle diventare non viene il verbo a triturarle a triturarle farle una granella finissima poi rifonderle aggiungendo però molta plastica nuova e fare degli oggetti che in parte sono riciclati ma questo si può fare due tre volte al massimo dopodiché non si può fare più per cui il problema delle plastiche sarà il problema uno dei problemi dei problemi del futuro perché microplastiche e nanoplastiche ce le stiamo letteralmente bevendo e mangiando ce le stiamo letteralmente bevendo e mangiando quindi direi che è decisamente il caso di occuparsi delle plastiche e la cosa è comprovata dal fatto che non se ne parla se ne parla poco se ne parla poco perché c'è un intero sistema produttivo da cambiare cosa non da poco ma se non facciamo qualcosa continueremo a mangiarcele e a berle assolutamente quindi detto questo vi ringrazio se avete piacere naturalmente condividete con amici e parenti ricordo sempre che ho messo gratis a disposizione il resoconto per argomenti delle cose che ho fatto nei miei dieci anni in senato lo trovate nel sito di edizioni ambiente si intitola io voglio parlare di energia e appunto è un resoconto con tutti i link ai atti e fatti ufficiali in maniera che uno può verificare che quello che racconto è la realtà bene grazie a tutti e appuntamento alla prossima puntata